Musica Ci troviamo a casa dei coniugi Gioè, il signor Vincenzo e la signora Rosa. Siamo in via Santo Spirito 86. Signora Rosa, il suo marito è un invalido. Il problema, il motivo per cui lei ci ha chiamato qual è? Perché mio marito è invalido e ha bisogno della dialisi tre giorni alla settimana. Gli ambulanzieri hanno pure problemi a passare dalla strada perché è mal messa. La strada è comunale? Sì. Quindi lei dice che l'ambulanza ha difficoltà perché è piena di buche, di passare passa, però si lamentano. Sì. Abbiamo fatto un'esposta al sindaco, abbiamo mandato due lettere, una al sindaco e uno non mi ricordo. E non ci hanno dato nessuna risposta dopo circa 40 giorni che abbiamo fatto una lettera. Ora siamo obbligati perché mio marito ha difficoltà, sempre con l'ambulanza, e se c'è un bisogno devi venire perché deve obbligatoriamente andare a fare la dialisi. E si sprofonda ancora un altro po' la strada. Come facciamo? Chi se la prende la responsabilità? Quando piove tra l'altro è peggio, molto peggio. Certo, è molto peggio perché le fosse si riempiono d'acqua e non si vede dove si passa la macchina. E ci sono delle difficoltà grosse. Anche lui sta male nell'ambulanza, anche perché non siamo solo noi che passiamo dalla strada. Noi siamo quelli che abbiamo più necessità, ma ci siamo più di 70 famiglie e siamo abbandonati da tutto e da tutti. Per quanto riguarda l'illuminazione? E avremmo bisogno pure l'illuminazione, perché di sera i ragazzi quando scendono trovano delle difficoltà a passare, perché ci sono delle coppiezze, delle cose che non si possono neanche dire nella strada. Angelo Giordano ha pure una casa qui, via Santo Spirito 86. Lei prima mi diceva che è un unico numero civico, ma siamo 70 famiglie. Sì, esatto, perché entrando lì dove c'è la pizzeria siamo via di Santo Spirito 86. Però gli abitanti di tutto il quartiere, siamo all'incirca 76 famiglie, 77 famiglie. Ma non da ora, reclamiamo sempre questa strada, l'illuminazione, dal 1980, cioè da quando ci siamo insediati un po'. Diciamo che fino a quando non c'erano problemi gravi, allora si soprassedeva. Però da quando c'è la situazione del signor Gioeche, il nostro senatore, che proprio si è aggravata in una maniera... Allora che sentiamo di più la necessità di fare giustare la strada.